Cresce l'attesa per il completamento dell'iter previsto dalle linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico del 2007 e dal Piano Unitario Regionale Autismo del 2019 per l'istituzione di due centri di urni e di una comunità residenziale nella provincia di Caltanissetta, così come si precisa nella nota dell'ISPED, che facendo riferimento ad un'indagine di mercato da parte dell'ASP punta verso un ulteriore step. «Atteniamo il bando», afferma infatti la Presidente Maria Grazia Pignataro, «perché ampliare l'offerta sul territorio significa offrire nuove e diverse opportunità ai nostri figli e figlie. Siamo fiduciosi», aggiunge inoltre, «che i requisiti previsti per la partecipazione al bando siano stringenti per quanto riguarda il possesso da parte degli enti interessati dei requisiti altamente qualificati per l'organizzazione e la gestione dei centri dedicati all'autismo». Centri rivolti ai giovani dai 6 ai 14 anni, che dovrebbero sorgere uno nella zona sud e l'altro in quella centrale della provincia, invece proprio a Caltanissetta, la comunità residenziale per i giovani adulti e adulti affetti d'autismo. Altro tema invece al centro di un prossimo incontro tra l'ISPED e i vertici dell'ASP di Caltanissetta è quello del Polo Sanitario delle Disabilità. «Abbiamo chiesto», ha sottolineato la Presidente Pignataro, «che venga ripristinato prima possibile nella nostra provincia il servizio di odontoiatria speciale e inoltre venga progettato un Polo Sanitario delle Disabilità con personale qualificato, che consente alle persone con disabilità di poter accedere in tempi brevi ad accertamenti diagnostici specialistici a terapie, così da evitare l'inserimento nelle liste d'attesa che con l'emergenza sanitaria sono diventate interminabili». Stando alla nota, la Direzione Sanitaria dell'ASP Nissen avrebbe anche individuato delle possibili soluzioni, come ad esempio alcuni locali dell'ospedale Maddalena Raimondi di San Cataldo per l'odontoiatria speciale.